Tre giovani tunisini sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di aver partecipato all'aggressione ai danni di una 33enne avvenuta il 12 febbraio scorso al 19.30 in piazza dei Ciompi a Firenze. Per l'episodio era già stato denunciato un sedicenne libico, bloccato poco dopo il fatto. A seguito dell'episodio la vittima, colpita con delle mazze e col calcio della pistola scacciacani con la quale poco prima lui stesso aveva minacciato il gruppetto, ha riportato ferite in varie parti del corpo, giudicate guaribili in 30 giorni. Avevano scelto il vino Tignanello, prodotto icona della casa fiorentina Marchesi Antinori. Di questo avevano riprodotto il marchio, le bottiglie, la confezione ed erano arrivati a piazzarne almeno 11.000 bottiglie sia in Italia che all'estero, soprattutto in Germania e Belgio. All'interno ovviamente c'era vino di bassa qualità e di altra provenienza geografica. È la truffa scoperta dalla procura di Parma in collaborazione con i nuclei dei NAS dei Carabinieri di Firenze e Cremona. In manette sono finite tre persone, madre e figlio di origine mantovana e un uomo residente nella provincia di Cremona, ma di origini napoletane. Dei primi due, Matteo Fazzi, 31 anni, è finito in carcere mentre le altre due persone coinvolte, Maria Alessandra Morini, 57 anni e Sergio Papa, 54 anni, sono stati arrestati ai domiciliari, altre sei le persone che risultano indagate. Ben 6,3 milioni di visualizzazioni di pagina in aumento del 60% sul 2017 e quasi 4 milioni di visite effettuate da oltre 3 milioni di visitatori unici. Sono alcuni dei numeri registrati nel 2018 da visittuscany.com, il sito di destinazione della Toscana realizzato da Fondazione Sistema Toscana in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. La maggior parte dei clic, spiega una nota, arrivano dall'Italia, 49%, seguita da Stati Uniti, 16% e Regno Unito, 10%, per una media di 17 mila visualizzazioni al giorno. La piattaforma raccoglie centinaia di schede su proposte di viaggio, approfondimenti tematici, specialità enogastronomiche e artigianali, spunti su eventi e itinerari alla scoperta della Toscana. Guardie mediche più sicure a Pistoia grazie al collegamento ai nuovi dispositivi di protezione di cui verranno dotati i medici. In caso di pericolo, infatti, basterà premere un pulsante per attivare l'ascolto ambientale e collegarsi alla centrale operativa di vigilanza che gestirà all'intervento e, se necessario, potrà anche allertare le forze dell'ordine. Funzionano così i nuovi dispositivi di protezione che da ora in poi i medici della continuità assistenziale, cioè le guardie mediche, dell'area pistoiese potranno utilizzare negli ambulatori per tutelare la loro incolumità. Gli apparecchi sono stati consegnati in questi giorni nell'ambito di un corso di aggiornamento e formazione sul tema delle aggressioni agli operatori sanitari, promosso dall'Ordine dei Medici in stretta collaborazione con l'azienda USL Toscana Centro. I dispositivi saranno per il momento operativi in cinque sedi sulle complessive undici del territorio pistoiese, zona Valdinievole e Pistoia. Sono stati scelti gli ambulatori più periferici e dove solitamente il servizio è svolto da un solo medico. Il Comune di Pistoia ha espresso voto contrario alla proposta di piano economico finanziario deliberata dall'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, Ato Toscana Centro. All'Assemblea di questa mattina, composta da 59 comuni compresi nell'ambito territoriale che raggruppa le province Pistoia, Prato e Firenze, l'assessore comunale alle partecipate Margherita Semplici, delegata dal sindaco Alessandro Tomasi, ha bocciato la previsione di aumento dei costi contenuta nel piano economico del lato, quello da cui derivano le tariffe dei rifiuti. Occorreva e occorre, dice il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, un'adeguata programmazione regionale sull'impiantistica. Il ciclo dei rifiuti necessita di risposte concrete, altrimenti si andrà presto verso l'emergenza. Pistoia sta facendo la sua parte, mettendo in campo, seppur con ritardo, tutte le misure necessarie per raggiungere adeguati livelli di differenziata, con l'introduzione entro la fine di quest'anno degli interrati nel centro storico e poi nel corso del 2020 con l'avvio di un diverso sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale. Ma questo ha senso soltanto a fronte di una concreta programmazione a livello regionale per la gestione del ciclo dei rifiuti. Sono 1200 le coppie che oggi a Firenze festeggiano le nozze d'oro nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio in occasione di San Valentino. A fare gli onori di casa, il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha fatto molte foto con le coppie, sottolineando il valore di questa tradizione a cui tiene molto. «È sempre una grande emozione», ha detto Nardella, «perché queste coppie sono per noi un messaggio positivo di speranza, fiducia e amore. Queste coppie ci insegnano che nella vita ci sono cose che contano più di ogni altra, come l'amore, il rispetto, il legame e la fiducia». Chiudiamo con le previsioni meteo per domani. Sereno, salvo nubi basse durante la notte sul Valdarno inferiore. Venti deboli da nord-est con rinforzi sulle zone meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi a largo a sud dell'elba. Temperature in lieve aumento. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.